La polizia locale di Rimini ha sanzionato 11 stabilimenti balneari per oltre 25.000 euro perché le rispettive aree attrezzate non rispettavano la distanza tra i paletti degli ombrelloni e i sistemi di ombreggio. In alcuni casi, al posto dei 180 ombrelloni previsti, ne sono stati trovati fino a 250. Le verifiche effettuate sono state 13 sulla base di alcune segnalazioni. In campo una squadra di 5 agenti in abiti civili che hanno contestato migliaio di euro per ciascuna violazione ad ogni rappresentante legale. Sono in corso le verifiche sul piano dell'arenile. Le distanze variano a seconda della densità turistica delle zone e il valore oscilla dagli 11 ai 12 metri quadrati. Secondo la normativa, le spiagge vanno inoltre suddivise in macrozone, ognuna con uno spazio ben definito ed è anche questo a determinare il numero degli ombrelloni che si possono installare. Nulla da eccepire invece per quegli stabilimenti che ospitano animali. È stato trovato tutto in ordine.